Musica Cari telespettatori, eccoci insieme. Vi piace il gelato? Mangiarsi un bel cono, degustare una bella coppetta, coppona di gelato, o qualsiasi altra cosa in qualsiasi momento della giornata, dire di no è molto difficile, soprattutto quando tra qualche giorno ci sarà la giornata europea del gelato. È molto importante questa giornata, non tanto e non soltanto per ricordare che il gelato c'è, ma ben lo sappiamo e tutti ce l'hanno presente nell'animo e nello stomaco, ma soprattutto perché è un riconoscimento, il primo riconoscimento a un cibo tipicamente italiano, ma ormai universale, trasversale, che parte però dall'Italia, che ha fatto l'Europa. Per parlare di questa giornata, per raccontarci e per spaziare anche fuori dai nostri confini con il gelato, abbiamo con noi in studio due esperti. E allora, ben arrivato Filippo Bano, grazie di essere qui con noi, gelatiere esperto e soprattutto presidente di Artglass, poi ci spiegherà che cos'è Artglass. detentore di Guinness, morneali, primati, conseguiti per numero di gelati, di gusti di gelato realizzati, dopo ci dirà anche questo. E soprattutto ci parlerà anche dei valori nutrizionali, gelato come alimento, quindi un elemento fondamentale anche della nostra dieta. Monica Tramontà, imprenditrice del gelato, ma non soltanto, grazie di essere qui con noi, che ha intrapreso la strada all'estero di esportare proprio questo gelato di carattere artigianale, stiamo parlando dei gelati artigianali, in paesi lontani, in modo particolare in Oman, vedremo con che risultati, quali difficoltà, quali sono gli aspetti, come viene approcciato il gelato in altre realtà, che sono abbastanza lontane da noi, ma nel contempo possono essere considerate vicine, quindi vediamo mercati diversi. Allora, detto questo, siccome per parlare di questa indizione, di questa giornata, dopo ci spiegherà bene anche Filippo Bano, abbiamo anche un'intervista realizzata non a caso, e capirete il perché, al presidente di Longarone Fiere, Gianangelo Bellati, che è stato qui con noi, sentiamo che cosa ci racconta, poi lo commentiamo insieme. Gianangelo Bellati, presidente Longarone Fiere, 24 marzo, giornata europea del gelato, Longarone Fiere ha un merito particolare, perché? Bravissima, è proprio un merito particolare quello di Longarone, perché Longarone Fiere aveva richiesto al Parlamento europeo il riconoscimento, il primo in assoluto per un prodotto alimentare, poi tipico come il gelato, perché è un prodotto tipico delle montagne venete, è un prodotto veneto e poi anche italiano, e aveva richiesto al Parlamento europeo il riconoscimento proprio di una giornata europea del gelato, che venne dato con una votazione in aula plenaria a Strasburgo del Parlamento europeo, e venne deciso che sarebbe stato il 24 di marzo, di ogni marzo, di ogni anno. E questo 24 marzo noi lo celebriamo a Longarone, insieme anche con Verona Fiere, abbiamo una collaborazione su questo settore con Verona Fiere, lo celebriamo insieme, quindi il 24 marzo, in occasione fra l'altro dell'ultima giornata di Agrimont, l'altra fiera molto importante, sempre dei prodotti di montagna, dell'agricoltura e della zootecnia. Ma non è un gelato qualsiasi quello che viene celebrato, e quest'anno in modo particolare c'è un gusto che spicca rispetto agli altri, che è stato scelto il 2 dicembre? Sì, ogni anno si sceglie un gusto, questo è l'anno del gelato al tiramisù, e quindi sicuramente per coloro che vorranno venire a Longarone, lo consiglio soprattutto alle famiglie, a chi ha i bambini in casa, perché offriremo il gelato a tutti coloro che verranno, ci sarà il gelato al tiramisù, ma io sto spingendo personalmente, visto che sono molto ghiotto di gelato, anche per il gelato delle Dolomiti, che è un gelato molto buono, quasi quasi direi lascia un po' la sorpresa, però dico che gli ingredienti sono un po' la vaniglia, un po' le fragole, è buonissimo. Artigianale? Sono tutti gelati artigianali quelli che vengono fatti, e cioè si usano poco i cosiddetti semi lavorati, ma si comincia sin dall'inizio, cioè dal latte, dall'uovo, si impastano, si lavorano sin dall'inizio, quindi il gelato artigianale sarebbe proprio quello che usa pochi semi lavorati. Da qui parte anche un piano ambizioso per lanciare Longarone Fiere relativamente al gelato, ma non soltanto, verso l'Europa. Beh, allora, questa giornata europea del gelato è celebrata anche con una bella intervista, dichiarazione che è stata fatta dal Presidente del Parlamento europeo, che in questo momento è un italiano, italiani, però l'anno in corso è il sessantesimo della mostra internazionale del gelato, della famosa MIG, che è la fiera più importante, la più storica che c'è in tutta Italia, in tutto il mondo per quanto riguarda il gelato, e che avrà luogo l'1, 2, 3 di dicembre. Celebreremo quest'anno con tanti eventi, fra cui il giorno prima faremo anche il campionato mondiale a Cortina dei gelatieri, campionato mondiale di sci, ovviamente, il 30 di novembre. E quindi sarà un evento molto particolare, e ci saranno tanti altri eventi, perché, ripeto, è il sessantesimo anniversario della MIG. Allora, Presidente, giornata importante, Artglass ha avuto un ruolo insieme a Longarone Fiere, e tra l'altro per due anni, se non sbaglio, ha tenuto anche forte questa organizzazione, proprio per cercare di commemorare questo giorno. Vediamo un po' di entrare anche più in mezzo. Diciamo che abbiamo perorato la nostra causa presso il Parlamento europeo per ben sette anni, nel senso che va presentato... Ogni volta andavate lì... Esatto, va presentato un disegno di legge, e c'è tempo, sei mesi, per avere la maggioranza dei voti. Purtroppo, per sei tentativi non siamo riusciti, al settimo anno ce l'abbiamo fatta, e siamo riusciti ad ottenere la maggioranza degli aeroporti parlamentari, che hanno decretato che il 24 marzo di ogni anno è giornata europea del gelato artigianale. Ma che valenza ha organizzare una giornata europea per il gelato? Quindi, questo riconoscimento cosa comporta? Perché adesso, in questo momento, quando si parla di Europa, ci sono i pro e ci sono i contro. Dicono, mica ci mettono i paletti, i paletti anche sugli ingredienti del gelato, perché lo vogliono conformare a dei criteri magari poco portodossi. Diciamo che dal punto di vista legale, sino al 2012, luglio 2012, il gelato artigianale non esisteva, nel senso che tutto ciò che norma il cosiddetto gelato, lo ice cream, è relativo al prodotto industriale. Di conseguenza, per noi, è fondamentale, perché la comunità europea ha riconosciuto che effettivamente sul mercato esistono due tipi di prodotto. C'è l'ice cream e poi c'è il gelato artigianale. Prima di quella data noi non esistavamo, praticamente non era presente il gelato artigianale. Come le DOP, le DOCG, eccetera, c'è un protocollo in base al quale il prodotto viene riconosciuto come artigianale, a cui voi tenete in modo particolare? Purtroppo non esiste nessun tipo di protocollo, non c'è nessuna norma e di fatti il prossimo passo sarà quello appunto di ottenere una legge che normi quelle che sono le caratteristiche del gelato artigianale, in maniera che il pubblico possa avere la possibilità di riconoscere un prodotto industriale da un prodotto artigianale. Con questo non voglio demonizzare il prodotto industriale, ci mancherebbe altro, però il consumatore ha il diritto di sapere quando è in presenza di un prodotto industriale oppure quando è in presenza di un prodotto artigianale. Adesso si può quindi, tra virgolette, barare? Sicuramente si può barare. Legalmente barare? Nel senso che non c'è nessun problema. Ma spesso e volentieri il prodotto industriale si maschera da artigianale e induce in errore il consumatore. Per cui c'è uno sviluppo a livello europeo di tantissimi marchi industriali che nulla hanno a che vedere con il prodotto artigianale. Però purtroppo spesso e volentieri si mascherano da artigianale. Dopo entriamo anche nel merito. Io gli do alcuni numeri, così li commentiamo anche insieme, sono molto interessanti. Allora, le vendite di gelato hanno raggiunto 9 miliardi di euro. Cifre di tutto rispetto, pari del 60% del mercato mondiale con una crescita media annua del 4% e un numero di addetti di circa 300 mila persone. Sono cifre paurose. E tra l'altro le gelatiere artigianali sono sempre più numerose. Non soltanto in Italia 39 mila punti vendita in crescita, ma anche nel resto d'Europa. In Germania 9 mila. Tra l'altro ci lavorano più di 20 mila persone e sono quasi tutte di origine italiana. Per cui c'è questa forte espansione verso l'estero. E la stagionalità sta diventando tutto l'anno. Anche da noi sta cambiando. Sì, diciamo che il gelato ha un'evoluzione e sicuramente è in fase di sviluppo. È ovvio che questo mercato andrebbe in qualche maniera normato proprio perché effettivamente... Perché ci sono numeri grossini. Grossi sicuramente, su questo non c'è ombra di dubbio. Va normato proprio perché c'è bisogno di un minimo di ordine in modo che il consumatore abbia la possibilità di capire effettivamente quando è di fronte a un prodotto artigianale e quando è invece di fronte a un prodotto industriale, insomma sotto questo aspetto. Allora, cosa vuol dire prodotto artigianale, prodotto industriale? Ci spieghi proprio il dietro le quinte di questi fantastici gelati che qui vediamo anche in occasione della MIG che c'è stata ma anche di altri eventi dove ci sono stati riconoscimenti, premiazioni poi parleremo anche di gelati a gusti particolari. Sì, diciamo che sicuramente parliamo di un prodotto artigianale quando alle spalle, cioè in laboratorio, vi è la presenza di un gelatiere che trasforma le materie prime sotto la sua ovviamente capacità professionale e con una recitazione ad hoc prepara un prodotto che è realizzato giornalmente e viene venduto immediatamente presso il proprio punto di vendita. Giornalmente. Giornalmente sicuramente. La freschezza è un requisito fondamentale di quello che è il gelato artigianale mentre invece il prodotto industriale ha mesi dai 2, 3, 4, 5 mesi ovviamente di produzione poi va in vendita dopo 4, 5 mesi in media. Ma per esempio la frutta, per esempio le creme? Le materie prime sono completamente diverse. Il gelatiere artigiano utilizza solo prodotti freschi latte fresco, frutta fresca e di conseguenza poi le trasforma e ovviamente le elabora e mi crea un prodotto di primissima qualità. La differenza poi tra gelato industriale e artigianale è anche relativa alla percentuale di aria che ha il prodotto. Un gelato artigianale in media ha il 30-35% di aria che viene incamerata naturalmente attraverso il processo di mancazione del gelato. Mentre invece nel prodotto industriale dipende dai marchi possiamo oscillare dai 60-70 arriviamo addirittura a certi marchi a 150% di aria per cui come vedete c'è una differenza abbastanza sostanziale tra un prodotto artigianale e un prodotto industriale. Poi lascio, diciamo così non mi addentro su quelli che sono gli aromi conservanti e quant'altro proprio perché effettivamente la variano moltissimo a differenza di vari marchi insomma sotto questo aspetto. E poi c'è anche un altro aspetto che è molto importante anche dal punto di vista salutistico l'aspetto calorico. Un prodotto industriale proprio perché ha una grossa percentuale di aria ha bisogno di parecchi grassi di parecchi zuccheri per insaporire quest'aria e di conseguenza ha un apporto calorico che dipende sempre dai marchi può essere il doppio se non il triplo rispetto a un prodotto artigianale. Però di fatto se c'è meno massa meno materia più aria teoricamente alla fine si dovrebbero compensare. Però la caloria si calcola sempre per 100 grammi di prodotto per cui magari io 100 grammi di gelato artigianale ho un volume magari di 2-3 litri e ho una quantità di gelato enorme. Il prodotto artigianale sicuramente ne avrò meno ma sempre 100 grammi sono. La sto alla fregatura mi sono stati attenti. Allora a questo punto per poter parlare di un alimento il gelato come alimento poi dedicheremo un capitolo a questo che cosa deve conoscere il consumatore? Che cosa deve stare attento? Perché se si guarda anche nei vari siti eccetera si dice anche il gelato industriale è sicuro adesso è un alimento completo perché contiene determinate sostanze che comunque non fanno male alla salute e quindi si è un po' sbarestrati da una parte all'altra. Sicuramente se il consumatore diciamo vuole evitare di consumare il prodotto e per cui assaggiarlo può sicuramente guardare il cartello ingredienti sul cartello ingredienti effettivamente è un po' la storia del gelato là si vede effettivamente l'ingredientistica che il gelatiere in qualche maniera mette nel proprio prodotto per cui attraverso il cartello di ingredienti io posso capire se effettivamente sono in presenza di un prodotto artigianale di qualità oppure magari può essere un prodotto industriale oppure magari un gelatiere artigiano che può capitare che magari utilizza dei prodotti semi-industriali può succedere anche questo sia ben chiaro Che male non fanno oppure sono... No, no, assolutamente dal punto di vista salutistico male non fanno proprio perché il gelato è uno degli alimenti che per fortuna non ha grossi problemi dal punto di vista igienico-sanitario proprio perché la conservazione avviene a meno 15 e se uno rispetta la catena del freddo non ci sono grosse problematiche su quello che è l'aspetto del... diciamo così è ovvio che un prodotto artigianale fatto con materie prime di primissima qualità vale a dire frutta fresca latte fresco panna fresca eccetera sicuramente dal punto di vista nutrizionale è molto migliore rispetto a un prodotto dove utilizza dei succedani di questi prodotti insomma quando nel gelato per esempio preconfezionato che si può trovare anche nella GDO si vede gelato artigianale e magari c'è scritto anche latte di alta qualità latte intero di alta qualità sciroppo di glucosio eccetera magari non ci sono conservanti ci sono ingredienti molto più scarni poi magari i monodi gliceridi degli acidi grassi compaiono sempre e ci spiegherà lei il perché che cosa ci capiamo a noi che c'è scritto gelato artigianale purtroppo dicevo proprio non c'è nessuna normativa manca una normativa di conseguenza non esiste questa distinzione purtroppo e ovviamente più di qualche azienda ci naviga su questo perché è ovvio che il guadagno se vendo un prodotto e lo vendo come artigiano il guadagno sarà sicuramente maggiore che non vendere un prodotto industriale è ovvio che il consumatore deve fare un piccolo sforzo e cercare di diciamo decifrare qualche volta queste benedette etichette proprio per capire di che cosa sta mangiando i monodi gliceridi degli acidi grassi vengono inseriti perché ovviamente danno una spinta notevole per quanto riguarda l'incameramento di aria del prodotto e mi mantengono morbido anche il prodotto sotto questo aspetto ecco sì questo sì ah quindi quando il prodotto è bello morbido eccezivamente morbido vuol dire che avvia quasi sicuramente la presenza di monodi gliceridi degli acidi grassi che in qualche maniera mi accentuano a questo cosiddetto in termine tecnico si dice ovram incameramento di aria nel gelato che potrebbe usarlo anche il gelato artigianale quello lo può utilizzare tranquillamente anche il gelatiere artigiano proprio perché non c'è nessuna norma che lo vieta quindi questo è un grosso limite a questo punto questo è sicuramente un grosso limite e ovviamente noi ci stiamo battendo per avere una normativa è ovvio che non è facile a livello europeo perché ci sono delle lobby molto forti assolutamente e di conseguenza non hanno nessun interesse a che venga modificato questo stato di cose assolutamente no e fanno male la salute questi monodi gliceridi no ovviamente il nostro organismo riproduce ci mancherebbe altro ovviamente danno un apporto calorico notevole su questo non c'è un dubbio l'importante è non eccedere nel consumo dei monodi gliceridi il problema è che in tantissimi alimenti sono presenti nel pane nei grissini e di conseguenza poi alla fine della giornata se uno non sta attento poi evidentemente qualche volta può capitare che effettivamente si vada a un consumo abbastanza eccessivo insomma in questo senso perfetto torniamo su questi temi pubblicità qualche secondo poi siamo con voi